E ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati su Granni Oggi raga vi prometto che forse ma non è detto che oggi riusciremo ad uscire da Granni Dalla casa di Granni Però proviamo Che sono curioso senza la nonna che succede se scappiamo dalla casa Per sicurezza controlliamo dappertutto Niente No Sì Ricordiamo quello Niente Andiamo sotto E niente E il pezzo dello shop Ciao Aspetta Adesso Ha già veduto l'ora non ricordiamo quello Però ci andiamo dopo raga un granaggio lasciamolo qui così ce l'abbiamo un caso ecco ragazzi continuo a rispondere il mobile perché non so proprio dove metterlo ecco l'appoggio qui guardiamo se c'è qualcosa no 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 guardiamo dall'altra parte qui e qui troviamo sempre di tutto vediamo qui guardo qui la batteria della macchina ecco ecco ma onde devo andare dentro oh devo stoppare il video ecco passiamo qui andiamo a cercare le chiavi dappertutto no 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 oh la chiave della play house un granaggio mi ricordo che qui andiamo a prenderlo ecco mi segretto un po' ecco torniamo indietro ecco un po' no 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 doveva so po so ti raga scusate se mi sentite piano la voce non voglia tanto di parlare e tra poco devo andare fatemi vedere l'ora si alle 14 e mezza devo andare raga non ricordo più dove l'ho visto continuiamo a giocare non ricordo dove l'altro canaccio due ore abriamo la scuola qui qui non ho la stessa cosa sarei sotto tutto molto bello non lo uso non è stata tutta la parte sì non era un cassetto ma era lavandino è già faccio la terra la terra della cassa dell'armi vabbè la metto lo stesso ecco ma c'è anche un'altra cosa ecco ecco di che hai fatto vediamo su cosa c'è però qui non aspetta non qui riguardo solo oh che ricada riguardo solo qui vedo una chiave vediamo 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 vabbè raga avevo visto il libro e da oggi faccio esponare la anzi no aspettate ho visto da uno youtuber che credo che si possa fare che si può passare attraverso spero che per questo no non si può guardo di nuovo qui quindi vabbè provo a vedere se c'è del ragno intanto credo che l'ho trovato tutti i pezzi di lo shotgun siamo qui e ho trovato pure la chiave speciale e da qualche parte qui non so dove ma ho trovato anche la carne e quindi tra poco possiamo andare a sconfiggere il ragnetto bel ragnetto là non non vediamo oh chi avete la cassa delle armi e viva ciao raga sarà arrivato mio fratello da scuola che gli ho detto che io devo andarmene alle 14 e mezza e mio fratello sarà arrivato perché lui esce alle 2 però anch'io solo che il come si chiama il lunedì e venerdì esco un po prima io scusate ragazzi entrando la mia madre raga siamo rimasti andare scusate raga scusate raga c'era mio nonno che deve andare ad accompagnare mia cugina a scuola che ha mangiato da mio nonno e ora sta andando di nuovo a scuola vediamo la chiave della corsa porta le pinze devo trovate qua e così e così posso già fare qui ecco ora andiamo a lasciarle su e così se trovo il martello almeno lo so fare scusate raga raga scusate era mia madre che doveva andare in bagno e io sono dove c'è il bagno di sotto però lasciamo qui cerchiamo il martello quando c'è la nonna è tutto impossibile quando non c'è la nonna volevo dire quando c'è la nonna è impossibile è tutto questo in un giorno solo quando c'è la nonna invece è impossibile però ho quasi creato tutto lo so che andiamo a prendere solo il calcio raga scusate era mia madre e ora dobbiamo andare a cercare il calcio del fucile no cerchiamo sotto sarà sotto dove l'ho lasciato scusate raga era mia mamma che è passata però non trovo proprio il calcio riguardiamo qui che forse mi è sfuggito è sfuggito no non lo trovo sarà sopra e non mi sono accorto no 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 Di dire qualunque cosa Guardate che bug Wow Che bug No aspetta Vado qui Ecco che bug Ecco però raga Finisco Chiudo il video adesso Perché Me ne devo andare Come vi ho già detto E scusate raga Ma non ci sono riuscito A uscire dalla casa della nonna E non trovo più il calcio E raga Questo è tutto Da 1000 stendini Out Out